Start, 2, 1, missione e liftoff! Non l'ho mai giocato, l'ho sempre trovato abbastanza intrigante, questo è un capitolo che ci riguarda direttamente perché è ambientato nella seconda guerra mondiale ed è la guerra sul Mediterraneo, quindi ci saranno mappe in Italia tra le montagne italiane e nel Nord Africa. Inizio a spiegarvi quello che io ho capito fino a questo momento, la prima cosa su cui dovete un pochino soprassedere è il menu che è veramente old style, mi sembra di giocare a Commando Stare, o comunque i vecchi Call of Duty insomma come menu è abbastanza antiquato e questa è una delle critiche che gli hanno anche rivolto le recensioni della critica specializzata. Che cosa, vabbè questo è il tutorial, ho deciso di partire da qui perché non voglio poi andare troppo avanti, insomma vi voglio buttare un pochino così l'esca insomma se il gioco può piacere più o meno. Il gioco non si muove con WSD ma vi potete muovere con il tasto centrale del mouse o le frecce o muovendovi i bordi dello schermo e la prima cosa che possiamo notare è che qua in basso a destra abbiamo delle risorse, abbiamo la mano d'opera, abbiamo le munizioni, il carburante e il numero massimo di popolazione che possiamo avere. Possediamo un quartier generale che poi in questa missione abbiamo espanso praticamente con il posto di comando della sezione, praticamente nel quartier generale possiamo produrre al costo di 220 forza, questo, delle unità di Royal Engineer, degli ingegneri, degli ingegneri con mitra stenna agitata corta, praticamente possono riparare, costruire difese insomma e occupa un 4 di popolazione, quindi potremmo fare con 16 unità, 4 unità di questi ingegneri, sono 4 uomini. Poi abbiamo invece qui, poi vabbè c'era qua sotto il tastino per costruire questo edificio e questo edificio ci fa la sezione fanteria, ha lì Enfield come fucile lunga agitata, possono sparare granate e intrappolire veicoli e questi occupano 8 ben 8, quindi abbiamo praticamente due unità di ingegneri che occupano 4 ognuna e abbiamo una da 8 di quelli lì, quelli nuovi. Abbiamo poi la possibilità di, lungo la mappa, di conquistare questi edifici, questi avamposti, che è un punto di munizioni che ci aumenta la generazione istantanea di, in questo caso, di munizioni. Noi abbiamo un tot che ci aumenta man mano e poi, vabbè, se andiamo a perdere varie sezioni andremo a perdere questo bonus, abbiamo conquistato questo, qua intorno c'erano delle casse di munizioni che potete mandare a recuperare i vostri soldati, insomma. Ora l'obiettivo è conquistare questo, questo è un punto sul territorio da conquistare e dobbiamo andare, adesso ci proviamo, dobbiamo conquistare il punto strategico e distruggere il camion di rifornimento. Una parte molto bella, che probabilmente qua non vedremo, è la distruttività degli ambienti, cioè quando vagheremo tra le varie città, le rovine, insomma, e lanceremo una granata, l'edificio potrebbe anche esplodere, insomma. Quindi, vedete qua, si distinguono le unità, possiamo iniziare a mandarle lì, e come potete vedere, quando io metto in pausa, va in modalità ordini, quindi posso dirgli andare lì, puoi andare lì, e così via. Questo è molto interessante, benché il gioco abbia delle recensioni nella media, al momento su Steam non è stato accolto proprio benissimo, non bisognerebbe capire il motivo. Però il gioco vanta di essere il più ampio di tutta la saga, con il maggior numero di unità, il maggior numero di fazioni, e così via. Dobbiamo andare a conquistare questa zona, ma questa zona è muressa molto male, Allora, questi tizi qui possono lanciare, vedete anche la granata, e posso lanciargli da lì. Vediamo se lo possono fare, vediamo se funziona. Vediamo come va. Che cacchio fa? Ok, adesso torna a André. Andiamo qua dietro. Unità, voi dovete andare qui. Li faccio mettere dietro il muretto qui. È un rischio, eh? Assolutamente un rischio. Queste unità qui invece vi faccio dare supporto sempre a loro. Vediamo, vediamo, adesso si sono rifugiati dietro, hanno lanciato la granata, e ci sono già dei morti, dei feriti lì in mezzo. Intanto attacchiamo. Mannaggia, devo andare piano perché già mi avete criticato che sono eccessivamente veloce. Nel... Ok, dobbiamo tenere ad occhio. Ok, questa l'abbiamo quasi conquistata. Adesso pian piano avanziamo. Prendiamo queste unità, li portiamo qua dietro. Questo resta però dietro, ok? E l'altra unità la mandiamo di qua. Vediamo se c'è qualcuno lì. Sì, dobbiamo distruggere anche il camion del rifornimento. Dobbiamo chiamare gli altri che hanno... Perché possono intrapolare i veicoli, quindi... Oh, mannaggia, ce ne hanno ammazzati due. No, uno, uno, uno. Uno solo. Quando noi... Adesso qua abbiamo conquistato tutto, sì. Quindi questi qui possiamo selezionare anche in questo modo. Possiamo mandarli qua dietro. Se non c'è più nessuno, ok? Poi conquistiamo la zona. Quando un'unità la perdiamo, praticamente perdiamo diversi uomini. Adesso li attacchiamo su più fronti. Li prendiamo... Ok, abbiamo distrutto il camion. Adesso, aspettate, fate... Facciamo una cosa. Vediamo se riusciamo a mandargli la granata qua. La vediamo al volo. Come funziona. Eccola. Bellissima. Eh, mannaggia, un po' sensibile alla visuale. Ok, abbiamo fatto un botto di danni. E abbiamo 27 secondi, c'è un cooldown. Intanto qua stiamo conquistando la zona. Li stiamo attaccando su più fronti, anche se questi che attaccano in automatico non li vedono molto bene. Adesso vediamo se... No, adesso... Ok. Ok, abbiamo conquistato il campo di aviazione. Oddio, scappano. Ok, dati tutti. Eh, intanto... D'accordo, questa è la parte facile. Deposito di caratterizzazione occidentale e protetto da veicoli blindati. Le armi di infanteria li fanno il solletico. Ok. Questi sono messi molto bene perché hanno delle difese blindate. Possiamo resegnare le armi di squadra abbandonate come le mitragliatrici, canoni anticaro, eccetera. Ok, questa è un'altra cosa molto bella. Possiamo convertire in postazione di soccorso. Quindi cliccando qua possiamo... Ok. Quindi questa zona viene convertita in campo base dove mandiamo tutte le unità dove presumibilmente dobbiamo... È fastidiosissimo perché si muove troppo veloce, devo rivederlo. Comunque qua possiamo tecnicamente rimettere in piedi le truppe. Vediamo se c'è qualcuno di danneggiato loro. Vediamo. Qua c'è... Unità di rinforzo, ok. Ci costa 24, ma siamo già al massimo quindi lo possiamo spendere. Sì, sì, ma muovetevi qua. Vediamo se... Riusciamo a... No. Ok, no, li ben curati, li ben curati adesso. Ok, portandoli qua dentro si sono curati. Allora, praticamente, quello che ci fa fare il gioco è, in pratica, l'utilizzare delle armi che sono del nemico, magari, contro i nemici stessi. Quindi pian piano dobbiamo andare là adesso. Voglio fare una prova, giusto per testare... Io adesso porto un nemico qua. Voglio vedere cosa succede se lancio... Voglio vedere la distruttibilità dell'ambiente. Voglio lanciare la granata qua. Vediamo. Mette il mortaio. Eh, carino però. Non è esploso, però, insomma, è già buono. Allora, dobbiamo sempre fare attenzione alle coperture, perché le coperture possono essere di vario tipo, possono essere alte o basse, e questo influenza molto quanto i nostri nemici ci possono colpire. Annaggia, devo... Adesso, lo facciamo subito, perché voglio vedere se... Controlli di gioco... Ecco, no, è la telecamera. Velocità di scorrimento. Facciamo 71. Ok, già meglio. Ok. Ci posizioniamo tutti qui. Dobbiamo andare a prendere l'anticadrono. Vediamo intanto i nemici. Sono lì. Non ci vedono. Quindi probabilmente possiamo avanzare con questi fino a qui. Avanziamo anche con questi. Gli altri stanno dietro qui e danno un occhio. Ok. Voi, ci siamo. Prendete l'anticadrono e vediamo cosa possono fare. Uno solo lo può prendere. Ok. Ok, bellissimo, perché lo alzano, lo preparano, lo puntano e sparano. Colpo laterale. Se ne stanno andando. Ok. La cosa che criticavano, che poi devo dirla perché comunque è importante, un po' l'intelligenza artificiale dei nemici, ma niente che non si possa migliorare poi col tempo. Allora, intanto, questi li mandiamo avanti qui. Questi li abbiamo mandati di là. Ok, abbiamo demolito praticamente tutti. Ci sono ancora questi nemici qua dietro. I carri li abbiamo eliminati. Dobbiamo conquistare il punto strategico. Quindi, voi rimuovete di qua. Sempre che non ci sia nessuno da questa. No, perfetto. Andate. voi vi muovete qui. Uno è rimasto dietro al carro. Faccio avanzare, se posso. Sì, in due. In due sono andati avanti. Hanno diminuito la forza di questa unità perché hanno dato due uomini a quelli. Perfetto. Voi potete sparare a loro. No, mollano il carretto. No, no, no. Lo puntano, sì. Cavoli. E però hanno gli ostacoli davanti. Molto bella sta cosa. Voi fate il giro di qua, va. I tasti ci sono attacca e raggiungi, stop e ritirata per farli andare via. Adesso qua dovremmo poterli prendere alla... Allora, per quanto io non sia un bravo in questo genere, neanche, a dire la verità, un appassionato, devo dire che non è male perché mi stimola a fare queste cose tattiche. Magari sacrificare un'unità, insomma. Anche questa cosa mi sta gasando tantissimo quella di fare questo giro stranissimo per accerchiare i nemici. Facciamo così. Voi andate e attaccate frontalmente loro. No, non attaccateli da lì. Ma a parte che voi potreste lanciare questo, magari. Dovrà fare dei passi avanti fino qua, probabilmente. Rischiando. Però, eccola. Si stanno spostando. Si stanno spostando. Ok, avanzate qua. Che li accerchiamo. Bellissima la distruttività dell'ambiente, come avevo già detto, è una delle caratteristiche del gioco. Andate qua dietro, se non c'è nessuno di là. Perfetto. Abbiamo conquistato, perché intanto abbiamo un più taliente, abbiamo un 317, quindi quello va in ritirata. E abbiamo conquistato. Abbiamo aumentato il limite di popolazione a 25, perché abbiamo conquistato una zona. Questa zona qui può diventare un campo base per ripristinare le unità. Voi potreste anche... Uh, c'è stato il fuoco disattivato. Concentra sui veicoli. La retromarcia. Attaccare la zona. Stop. Ok, questi ormai li abbiamo persi. Sarebbe da capire se possono mollare la cosa. Ma prepariamoci al contraattacco, perché non si sa da dove arriveranno, ma probabilmente da nord. Ora, dobbiamo piazzare le mine. Selezioniamo lui. Cosa devo fare? Usa i genieri. Fantastico. Questo è bellissimo qualcosa. Posso andare qui. Ah no, il canone anticaro lo posizionate qua. Voi genieri, andate qua davanti e posizionate le mine. Non ho idea di come fa. Così, ok. Ok, eccole qua. Mine anticaro, modificate, deposito di risorse, muri di sacchi di sabbia, recensione filo spinato. È una figata questa cosa. Mettiamo le mine sotto la sabbia. Qui, qui e qui. Così lo faranno. Intanto il canone anticaro lo mettiamo qua. Bellissimo. Ho mandato solo un'unità. Gli altri li ho lasciate qui. Voi li metto i parati qua dietro. E voi qua dietro. No, qua dietro, dai. Qua. Anzi qui. Qui, qui, qui. Mettetevi lì. Bellissimo che scavalcano anche. Ok, stiamo piazzando le mine. Sono un po' vicini in realtà, ma ci sono i sacchi di sabbia. Però bellissima questa cosa che possono costruire voi. Spero non me lo faccia fare già il tutorial, ma voi potreste mettere dei sacchi di sabbia qui. Voglio vedere cosa mi costa. Niente, mi costa. Mettiamo i sacchi di sabbia qui. Vedete che li orientiamo. Ok, vediamo. Bello, 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 sì. Hanno messo tutto. Abbiamo posizionato il cannone anticaro qua, no? Come faccio a posizionarlo? Piazza mine. Le ho piazzate le mine. Piazzate le mine. Piazzate le mine. Ok, questo. Attaccare la zona. Questa, probabilmente. No, 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 no. Fermatevi, fermatevi. Dopo. Non attaccate la zona. Ok, posizionatelo così. Penso che arrivino adesso, eh. Assegna preparare la mitagliatrice. Dove cavolo è la mitagliatrice? Vediamo un po'. Eccola lì. Quindi mandiamo dei genieri qui. Credo possano farlo. Quindi loro attaccano qua. Questi attaccano qua. Abbiamo ancora un'unità qua nascosta che mettiamo qui. Questi. Abbiamo esteso la protezione, quindi è tutto bene. Voi mettetevi tutti dietro, però. Non lì così. Ok. Voi vi mettete qua. Questi sono assegnati alla mitagliatrice. Tieni premuto il tasto destro del mouse per trascinare e impostare la direzione verso cui rivolgere la mitagliatrice. Ok. Fammi vedere. Scusate, eh. Questa è la mitagliatrice. Sì, perché l'ha presa lui. Minchia, l'ha presa lui. Ah, no, 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 perdonami. Qui, così. Ok. Vai così. Spero non me la metta dietro i sacchi di sabbia, perché... Ok. Ok. E ora contraattaccano. Vediamo chi arriva. Stiamo attaccando ovviamente contro i tedeschi e gli italiani, alleati. Tra l'altro, quando parlano gli italiani, parlano proprio in italiano. Si sentono proprio frasi in italiano. Beh, ci siamo organizzati piuttosto bene, ma guidati ovviamente dal tutorial, quindi... Abbiamo messo più mine di quello che ci voleva. Pensate a dover invece affrontare una cosa al contrario di questa. Qua vuoi mettere tutto scriptato, quindi... Esploreranno per i fatti loro. Chi sono sti qua? Panzer Grenadier. Sì, beh, avrei attaccato la granate qua, cioè non è che è un mortaio. Insomma, adesso non è che puoi venire qua avanti così, però io di guerra non ne so niente, quindi non è che posso. Questi usano il loro rottame per ripararsi. Che poi, a quanto so, le unità saliranno di livello. E hanno le loro statistiche, quindi potranno salire a livello di anzianità. Quindi dovremo amministrare sia il campo base che tutte le unità. Questa è molto interessante come meccanica. Ovviamente, quello che dico sempre in giochi di questo tipo, uh, danno al motore, fantastico. Quello che dico sempre, bisogna essere comunque appassionati ai giochi di questo tipo, perché non potete... Se vi piacciono gli elfi, gli orchi e le cose magiche, qui siamo molto più terra a terra, insomma. Però, già nel 2, me ne avevano parlato, di Company of Heroes 2, me ne avevano parlato e mi affascinava. Poi, magari complice un po' il fatto che era vecchio come gioco, non vecchissimo, ma abbastanza vecchio. E la grafica è un po' quella che era. Non che qui sia nulla che si faccia gridare il miracolo, però usa l'engine Relic, che è quello degli sviluppatori. Che ringrazio ancora. Questi sono dei carri armati, sono dei Panzer III L. Antifanteria, antiveicolo. Uh, questi qui sono tosti, eh. Dobbiamo difenderlo ancora per 4 secondi. Questo è nostro, presumo. Crusader si deve di sì. Calcolando che il nome è inglese, quindi. O americano, insomma. Bene, quel carri dovrebbe darci il vantaggio che ci serve per distruggere le unità crocche. Poi ci sono anche le cazzi, insomma. È fatto piuttosto bene il gioco. Cioè, c'è cura, diciamo. Sconfiggi le forze nemiche rimaste. Ok. Possiamo usarlo? Sì. Uh, ma ci possiamo andare dietro. Aspettate, aspettate, aspettate. Fermi tutti. Andate tutti qua dietro, il carro armato. E si può organizzare un'avanzata con il carro armato. Voi andate avanti qui. Dietro qua. Distruggi l'artiglieria nemica. Distruggi il carro armato nemico. Affianca e distruggi il cannone anti-caro nemico. Dobbiamo distruggerlo prima che ci distrugga lui. Andiamo avanti. Che noi. Andiamo col Panzer. Anche poi in Panzer parola tedesca, no? Il tank. Vai, 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 vai. C'è qualcuno rimasto indietro? Questo è classico mio, quello di giocare male. Ok, dai, avanzate, avanzate dietro il carro armato. Dietro il carro armato. Voi, muovetevelo qui. Il carro armato spara sto a fare qua. Perché tutte le cose di interesse sono qui. Bisogna fare attenzione all'artiglieria, ma soprattutto la... Oddio, no, è tutta artiglieria, quindi bisogna giocarla con calma. Eh, questo sta subendo un po', eh. Qua la subiamo male. Dobbiamo conquistare anche questa zona qui. Il carro armato diciamo che può avanzare. Non so perché fosse girato al contrario. Posso settare anche questo a livello di direzione tenendo premuto il tasto destro. Qua è preso un po' da Total War come meccanica. Sì, ma... Ma che cacchio... Ah, ma perché stiamo finendo sulle nostre granate? No? Mannaggia, 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 mannaggia. Possiamo produrre un'altra unità? Eh, sì, possiamo produrre un'altra unità. Però questo va convertito in campo medico. Però non possiamo farlo ora. Adesso, avanzate anche voi. No, ma lo facciamo lì nel campo medico. Ormai l'ho fatto qua, ma... Voglio farlo lì. Il problema... Ok, dai, abbiamo preso le cose. Dobbiamo distruggere sto affare qua, quindi facciamo il giro da qui. Che cacchio ho mandato di là? No, 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 voi andate di qua, andate di qua. Andiamo di là a questi. Voi, andate di qua, e perforiamo sta zona qui. Che stanno probabilmente riparando, stanno costruendo. Ovviamente come noi abbiamo costruito le protezioni per il nostro campo, lo faranno anche loro. Cazzo, c'è un anti-caro lì. Ok, dai. Vai che li prendiamo dal fianco. Minchia, hanno portato dietro il muretto dell'anti-caro, no? Dove è andate? Minchia, se non lo so giocare io a sto gioco. Voi, voi, fermi lì, per l'amore di lì. Ma no, ma cosa fate? Maddito. Vabbè, saltiamo tutto ormai, com'è andata, è andata. Andiamo. Conquistiamo sta zona qui. E ripristiniamo le unità, perché ne abbiamo perso un sacco. Eccoli gli italiani. Che stanno andando via. Prestazioni scarse, devo dire. Grafici, com'è andata, insomma. Avevamo, giocavamo insieme a una CPU difficile, contro una CPU standard. Abbiamo fatto il primo passo, vinto anche l'achievement di Steam. Avete la modalità cooperativa per giocare con un amico contro la CPU. Abbiamo il multigiocatore, dove possiamo andare online con le varie lobby e giocare. Abbiamo l'equipaggiamento, che non so necessariamente cosa sia, ma credo sia una configurazione della partita. Quindi il tipo di ricognizione con la brigata del diavolo, insomma, cambiano le skin dei personaggi. Ovviamente niente di supereroi, insomma, roba abbastanza seria. E la campagna multigiocatore, campagna di giocatore singolo, scusate, che divide due campagne, Nord Africa e la campagna dell'Italia. La campagna dell'Italia la possiamo giocare in standard, in difficile, in veterano, in pavido. In standard ovviamente non c'è niente di facile, qua possiamo caricare la partita. Abbiamo la possibilità di invitare altra gente, però non credo sia giocabile in co-op, perché la campagna c'è quella e basta, credo. Campagna italiana, e qua carica, possiamo caricare la nostra partita, fare una schermaglia, quindi un semplice combattimento. L'inizio della campagna inizierà la nostra avventura all'interno di Company of Heroes 3 con la sua storia originale, originale, insomma. Ovviamente io penso ci saranno dei DLC nel corso dei mesi, comunque queste sono le cutscene con tutte le scene di guerra. Il gioco è in italiano, come avete visto, doppiato in inglese. Però, ecco, sentirete anche voci italiane, perché combatteremo in Italia. Adesso si è vista la Sicilia, si è vista la Gela, si è vista la mappa, lì dietro, quindi questo è molto interessante. Non ve lo voglio spoilerare, il gioco non costa certo poco, perché costa 60 euro. Magari qualcosina meno lo trovate sui vari siti, che io scrivo sotto nella descrizione dei video. È un gioco praticamente per appassionati? Direi di no, perché se vi piacciono gli strategici, vi è piaciuto quello che avete visto adesso e non vi scorcia andare avanti così, a missioni dove vi amministrate le vostre risorse, la vostra produzione di mano d'opera, di munizioni, carburante, amministrate la vostra base, la ricostruite, insomma. Ad esempio qua inizia questa cosa, con questo sbarco, e dovete risolvere la cosa, quindi iniziate ad identificare dove sono i nemici, quali sono i mezzi che avete voi, poi vi farà mettere giù la base dove potete reclutare altra gente, amministrarvi appunto le risorse, grazie anche ai punti di controllo dei nemici, che conquisterete, e vedete che poi qua c'è la, si va su, c'è la città italiana, penso in Sicilia a sto punto, adesso io non ricordo onestamente, e qua ha lanciato una granata, la casa esplode, un colpo di granata, la casa esplode, quindi è molto distruttibile il mondo, questo era Company of Heroes 3, spero vi sia piaciuto, spero vi abbia incuriosito, non mancate come sempre, che è sempre apprezzato, di farmi sapere nei commenti che cosa ne pensate, e alla prossima ragazzi, e ciao ciao!